Iniziamo la nostra celebrazione con il canto Gloria a te Cristo Gesù Gloria a te Cristo Gesù Oggi e sempre tu regnerai Gloria a te presto verrai Sei speranza solo tu Sia l'ode a te cuore di Dio Con il tuo sangue lavi ogni colpa Torna a sperare l'uomo che muore Solo in te pace e unità Amen, alleluia Gloria a te Cristo Gesù Oggi e sempre tu regnerai Gloria a te presto verrai Sei speranza solo tu Sia l'ode a te vita del mondo Umile servo fino alla morte Doni alla storia Nuovo futuro Solo in te pace e unità Amen, alleluia Gloria a te Cristo Gesù Oggi e sempre tu regnerai Oggi e sempre tu regnerai Gloria a te presto verrai Sei speranza solo tu Sia l'ode a te Sia l'ode a te pietra angolare Sia l'ode a te pietra angolare Sieme nascosto luce nel buio In nessun altro il mondo si salva Solo in te pace e unità Amen, alleluia Gloria a te Cristo Gesù Oggi e sempre tu regnerai Gloria a te presto verrai Sei speranza solo tu Sia l'ode a te Sia l'ode a te figlio di letto Dolce presenza nella tua chiesa Tu ami l'uomo come un fratello Solo in te pace e unità Amen, alleluia Gloria a te Cristo Gesù Oggi e sempre tu regnerai Gloria a te presto verrai Sei speranza solo tu Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amine La pace sia con voi E con il tuo Spirito Rallegriamoci nel Signore che ci convoca alla sua mensa sotto lo sguardo materno di Maria Ravviviamo la nostra fede perché lo possiamo incontrare Conoscere, amare, testimoniare e servire Che il Signore ci doni di sperimentare il suo amore e la sua tenerezza Mentre noi confessiamo umilmente i nostri peccati Confesso a Dio Onnipotente E a voi fratelli e sorelle Che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa E supplico la Beata, sempre Vergine Maria I amici e gli santi E voi fratelli e sorelle Di pregare per me il Signore Dio nostro Dio Onnipotente abbia misericordia di noi Perdoni i nostri peccati E ci conduca alla vita eterna Amen Signore, pietà Signore, pietà Cristo, pietà Cristo, pietà Signore, pietà Signore, pietà Gloria, gloria In excelsis Deo Gloria, gloria In excelsis Deo E pace in terra Agli uomini amati dal Signore Noi ti lodiamo Ti benediciamo Ti adoriamo Ti glorifichiamo Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa Signore Dio, Re del Cielo Dio Padre Onnipotente Gloria, gloria Gloria, gloria In excelsis Deo Gloria, gloria In excelsis Deo Signore, figlio unigenito Gesù Cristo Signore Dio, agnello di Dio Figlio del Padre Tu che togli i peccati del mondo Abbi pietà di noi Tu che togli i peccati del mondo Accogli la nostra supplica Tu che siedi alla destra del Padre Abbi pietà di noi Gloria, gloria In excelsis Deo Gloria, gloria In excelsis Deo Perché Tu solo il Santo Tu solo il Signore Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo Con lo Spirito Santo Nella gloria di Dio Padre Amen Gloria, gloria Gloria In excelsis Deo Gloria, gloria In excelsis Deo Preghiamo O Padre Che nella Tua provvidenza mirabile Hai voluto associare la Vergine Maria Al mistero della nostra salvezza Fa che accogliendo l'invito della Madre Mettiamo in pratica ciò che il Cristo Ci ha insegnato nel Vangelo Egli è Dio E vive regna con Te Nell'unità dello Spirito Santo Per tutti i secoli Dei secoli Amen Dal libro dell'Esodo In quei giorni Mosè salì verso Dio E il Signore lo chiamò dal monte Dicendo Questo dirai Alla casa di Giacobbe E annunzerai agli israeliti Voi stessi avete visto Ciò che io ho fatto all'Egitto E come ho sollevato voi Su ali di aquile E vi ho fatti venire fino a me Ora se vorrete ascoltare la mia voce E custodirete la mia alleanza Voi sarete per me la proprietà fra tutti i popoli Perché mia è tutta la terra Voi sarete per me un regno di sacerdoti E una nazione santa Queste parole Dirai agli israeliti Mosè andò Convocò gli anziani del popolo E riferì loro tutte queste parole Come gli aveva ordinato il Signore Tutto il popolo rispose insieme e disse Quanto il Signore ha detto Noi lo faremo Parola di Dio Prendiamo grazie a Dio Beato chi cammina Nella legge del Signore Beato chi cammina Nella legge del Signore Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti E lo cerca con tutto il cuore Non farmi deviare dai tuoi precetti Conservo nel cuore le tue parole Per non offenderti con il peccato Beato chi cammina Nella legge del Signore Benedetto sei tu, Signore Mostrami il tuo volere Nel seguire i tuoi ordini e la mia gioia Più che in ogni altro bene Beato chi cammina Beato chi cammina Nella legge del Signore Voglio meditare i tuoi comandamenti Considerare le tue vie Nella tua volontà è la mia gioia Mai dimenticherò la tua parola Beato chi cammina Nella legge del Signore Alleluia Beato chi ascolta la parola del Signore E la mette in pratica Beata la Vergine Maria Che aderì in tutto Alla volontà di Dio Alleluia 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 Il Signore sia con voi E con il tuo spirito Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea E c'era la madre di Gesù Fu invitato alle nozze anche Gesù Con i Suoi discepoli Nel frattempo Venuto a mancare il vino La madre di Gesù Gli disse Non hanno più vino E Gesù rispose Che ho da fare con te o donna Non è ancora giunta la mia ora La madre dice ai servi Fate quello che vi dirà Vienero lì sei giare di pietra Per la purificazione dei giudei Contenenti ciascuna Due o tre barili E Gesù disse loro Riempite l'acqua Riempite d'acqua le giare E le riempirono fino all'orlo Disse loro di nuovo Ora attingete e portatene al maestro di tavola Ed essi gliele portarono E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino Il maestro di tavola Che non sapeva di dove venisse Ma lo sapevano i servi Che avevano attinto l'acqua Chiamò lo sposo e gli disse Tutti servono da principio il vino buono E quando sono un po' brilli Quello meno buono Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono Così Gesù diede inizio E i Suoi miracoli in Cana di Galilea Manifestò la Sua gloria E i Suoi discepoli Credettero in Lui Parola del Signore Glorie a Galileo, qui ci sono Cari fratelli e sorelle amati dal Signore Cari fratelli presbiteri Caro fratello, padre, vescovo Abbiamo ascoltato molte volte La narrazione evangelica Delle nozze avvenute a Cana A cui con Maria sono stati invitati Anche Gesù e i Suoi discepoli Vorrei aiutarvi questa mattina A ripercorrere e gustare quanto abbiamo udito A partire dallo sguardo manifestato da Maria La madre di Gesù Nei confronti dei diversi personaggi A cui ella si è rivolta E lo stesso sguardo Di amore e di compassione Di bontà e di tenerezza Con cui ella si rivolge A ciascuno di noi Oggi, qui Accorsi In questo luogo benedetto Dalla sua visita Maria è la prima Tra i convitati al banchetto di nozze Ad accorgersi Che non hanno più vino Quindi Il suo sguardo È uno sguardo vigile E attento È quello di una mamma Che si accorge immediatamente Di ciò di cui i figli Hanno bisogno Una mamma Come tutte le mamme Che coglie al volo Lo stato d'animo di ciascuno Vuole evitare Questa buona madre Che gli sposi Si sentano sminuiti E umiliati È una madre Dallo sguardo Premuroso Tutto dedita Al bene E alla gioia Dei suoi figli Osiamo Immaginare ora Con quale sguardo Maria Si è rivolta A Gesù Nel quale profondamente Confida Egli Venuto a cercare E a salvare Ciò che era perduto Sa Come intervenire A vantaggio Di chi è bisognoso Di aiuto Maria si rivolge A lui Con un semplice Umile Constatazione Non hanno più vino A volte Maria Riferisce a Gesù Anche nei nostri Confronti Ciò di cui abbiamo bisogno Per vivere Come a lui Piace Non può mancare In noi La gioia Della festa Lo slancio Creativo Per un rinnovato Per un rinnovato impegno La forza Per portare Con amore La nostra croce Quotidiana Portare con amore La nostra croce Quotidiana Maria si rammarica E soffre Interiormente Se ci dimentichiamo Se ci dimentichiamo Di Gesù Ci priviamo Di lui Il nostro tesoro Più grande Quale se altrove Fossero altri Tesori E altrove Avessimo altri Interessi Davanti a Gesù Poi lo sguardo Di Maria Si fa Supplice A tal punto Da usare Chiedere Immediatamente Ai servi E senza esitazione Che facciano Quello che Gesù Indicherà loro Anche oggi Qui riuniti In questa celebrazione Eucaristica Maria rivolge A ciascuno di noi Il suo invito Pressante Come tenera madre E ci supplica Fate quello Che vi dirà Il Signore oggi Proprio in questo Pelleghinaggio Incontrandoci Ci indica Una parola Che noi dobbiamo Fissare nel nostro cuore Per poter vivere A lungo Alla luce Di questa parola Che ha penetrato E forse Ci ha commosso Nell'intimo Ciascuno di noi Ha una parola speciale Che ha sperimentato Che ha sentito Che ha gustato In questo Pelleghinaggio Bene Va ricordato Questa parola È una parola Particolarissima Unica E speciale Che Dio rivolge A ciascuno di noi E vi invito A scoprire E a ricordare Tornando Alle nozze Di cana Ecco che Il maestro Di tavola Assaggiata L'acqua Diventata vino Si complimenta Subito Con lo sposo Per l'ottima Qualità Della bevanda Lo sguardo Lo sguardo di Maria Invece È rivolta Direttamente A Gesù Proiettato Su di Lui Ed è pieno Di gratitudine E di stupore È la fede Di Maria Che ha ottenuto Da Gesù Questa trasformazione Questo segno Nuovo Con cui Egli inaugura I tempi messianici E come La fede di Maria Ha provocato L'inizio Dei miracoli Di Gesù Così I Suoi discepoli Proprio Attraverso Questo primo segno Attraverso Cui Egli ha manifestato La sua gloria Cominceranno A credere In Lui Ossia A fidarsi E confidare Nella sua potenza D'amore Lasciamoci ora Noi stessi Raggiungere Per qualche istanto Dallo sguardo Tenero E materno Di Maria E chiediamo Che Ella Parli di noi Al suo figlio Ora Che viene Sulla mensa Eucaristica Amen Amen Fratelli e sorelle Invochiamo Dio Nostro Padre Che ha fatto Che ha fatto Di Maria Vergine Il sostegno E la difesa Della fede Del popolo cristiano Per sua intercessione Chiediamo la grazia Di essere Rienvigoriti Nella fede Per la santa chiesa Perché in essa Ogni uomo Possa sperimentare La forza Del tuo amore Preghiamo Assolvaci Signore Per tutti Gli sposi cristiani Perché la loro unione Sia una luminosa Testimonianza Dell'amore oblativo Di cui il sacramento Nuziale Li rende capaci Preghiamo Assolvaci Signore Per i giovani Perché la Vergine Maria Accompagnandoli Nella loro esistenza Li educhi Al puro amore Fonte di pace E di gioia vera Preghiamo Assolvaci Signore Per i bambini Perché possono Crescere In età Sapienza E grazia In un ambiente Familiare Dove regni L'armonia E il senso cristiano Della vita Preghiamo Assolvaci Signore Per noi tutti Convocati Intorno a quest'altare Perché Sull'esempio Di Maria Possiamo Corrispondere Con generosa Disponibilità Alla chiamata Battesimale Preghiamo Assolvaci Signore Guarda con bontà Signore Questa tua Famiglia Fa che Celebrando Con fede Viva I divini Misteri A imitazione Della beata Vergine Maria Sia Perseverante Nella preghiera Operosa Nella carità Incrollabile Nella speranza Per Cristo Nostro Signore Amén Amén Dio Sia Sia Grazie. 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 Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle Tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del Suo nome, per il bene nostro e di tutta la Sua Santa Chiesa. Accetta, oh Signore, i doni della Tua Chiesa in festa e trasformali nel corpo e sangue del Tuo Figlio e per l'intervento di Maria mutò l'acqua in vino e nel segno prodigioso delle anfore prefigurò l'ora della Sua beata passione. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolte al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. E che cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la Tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lo diamo e ti benediciamo per la materna sollecitudine che la Beata Vergine Maria alle nozze di Cana manifestò per i giovani sposi. Con la sua potenza supplice intervenne presso il Figlio e ordinò ai servi di eseguirne i comandi. Si arrossano le anfore, si allietano i commensali e il convito nuziale diviene simbolo del banchetto che ogni giorno Cristo prepara per la Chiesa. Questo segno mirabile inaugura i tempi messianici, preannunzia l'effusione dello Spirito e anticipa la mistica ora in cui Cristo, avvolto nella veste purpurea della passione, si immola sulla croce per la Chiesa, sua sposa. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e per l'eternità adorano la gloria del suo volto. Al loro canto concedi, oh Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, benedictus, 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 benedictus qui venit in nomine Domini. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, 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 Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Veramente santo sei tuo padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nell'ora in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai Suoi discepoli e disse Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede Annunciamo la tua morte, Signore Proclamiamo la tua risurrezione Nell'attesa della tua venuta Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, Nell'attesa della sua venuta nella gloria Ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio San Giuseppe suo sposo i tuoi santi apostoli i gloriosi martiri Santa Bernadetta e tutti i santi nostri intercessori presso di te Ti preghiamo, Padre questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra il tuo servo e nostro Papa Francesco il nostro Vescovo Jean Marc l'Ordine Episcopale i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato qui alla tua presenza la grotta di Massabiel ricongiungi a te, Padre misericordioso tutti i tuoi figli ovunque dispersi accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene per Cristo con Cristo e in Cristo a te Dio Padre onnipotente e l'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli amén il Signore ci ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme Padre nostro che sei e c'è sia santificato il tuo nome venga a Torino sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra darci oggi il nostro pane di quotidiano che rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male liberaci o Signore da tutti i mali concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo Signore Gesù Cristo che hai detto i tuoi Apostoli vi lascio la pace vi do la mia pace non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa dona le unità e pace secondo la tua volontà tu che vivi a regni nei secoli dei secoli la pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito scambiamoci il dono della pace Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Abbi pietà di noi Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Abbi pietà di noi Agnello di Dio che togli i peccati del mondo dona a noi la pace Ecco l'Agnello di Dio ecco colui che toglie i peccati del mondo beati gli invitati alla cena dell'Agnello O Signore non sono degno di partecipare alla tua Mesa ma di soltanto una parola e io sarò salvato Per la Santa Comunione ci saranno quattro ministri che distribuiranno l'Eucaristia qui davanti all'altare aspettate che vi facciano cenno per potervi muovere altri sacerdoti accompagnati da un baralliere con l'ombrello bianco si metteranno in mezzo all'Assemblea attendete che ogni sacerdote si sia posizionato poi vi avvicinerete per la Santa Comunione per i ciliaci invece potranno ricevere la comunione qui davanti al grande candelabro il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il Regno sei sostegno col tuo corpo resta sempre con noi o Signore è il tuo pane Gesù che ci dà forza e rende più sicuro il nostro passo se il vigore nel cammino si svilisce la tua mano dona lieta la speranza il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il Regno sei sostegno col tuo corpo resta sempre con noi o Signore è il tuo vino Gesù che ci disseta e sveglia in noi l'ardore di seguirti se la gioia cede il passo alla stanchezza la tua voce fa rinascere freschezza il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il Regno sei sostegno col tuo corpo resta sempre con noi o Signore è il tuo corpo Gesù che ci fa chiesa fratelli sulle strade della vita se il rancore toglie luce all'amicizia dal tuo cuore nasce giovane il perdono il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il Regno sei sostegno col tuo corpo resta sempre con noi o Signore per il tuo sangue Gesù il segno eterno dell'unico linguaggio dell'amore sei il donarsi siccome te richiede fede nel tuo spirito sfidiamo l'incertezza il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il Regno sei sostegno col tuo corpo resta sempre con noi o Signore quando profonda precipita la notte scompare il mondo e si fa nero il blu come un bambino prendimi per mano stringimi forte e portami con te tu patria eterna tu patria eterna da cui son nato e torno tu il mio presente tu sai tutto di me sei il mio Papa dolcissimo e potente come Gesù ti invoco e dico Abba tu l'orizzonte di ogni cosa viva perdono eterno perdono eterno ad ogni infedeltà hai tanto amato il mondo che hai creato da dare a noi il figlio il figlio tuo Gesù tu patria eterna da cui son nato e torno tu il mio presente tu sai tutto di me sei il mio Papa dolcissimo e potente come Gesù ti invoco e dico Abba come Gesù ti invoco e dico Abba come Gesù ti invoco e dico Abba ti invoco e dico Abba come Gesù ti invoco e dico Abba come Gesù ti invoco e dico Abba sei è Grazie. 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 Dio Padre misericordioso, per l'immenso amore verso la Madre del Suo Figlio, vi doni la salute dell'anima e del corpo. Amén. Gesù Cristo, frutto del grembo virginale di Maria, vi conceda ogni virtù e dono per rendervi più graditi al Suo cuore. Amén. Lo Spirito Santo, vi doni la dolcezza della pace e vi unisca in operosa concordia in seno alla Chiesa Madre. Amén. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amén. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Prendiamo grazie a Dio. O Vergine Maria, Regina del Ciel, a Lourdes ritorna il popolo fedel. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave La grotta s'accende di luce del sol, la bella Signora, la bimba se vuol. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Di bianco cantore, recinta di un vel, le cinge la vita, un lembo del cielo. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. I pellegrini, mentre ringraziamo i giovani che sono stati qui per il servizio, grazie. Un avviso per tutti i pellegrini di lingua italiana, abbiamo appena celebrato la Santa Messa. Lasciamo libero adesso per il pellegrinaggio successivo, quindi vi invito ad uscire dalla zona della grotta per lasciarla libera per il pellegrinaggio che ora deve celebrare. Grazie. La bimba ai suoi piedi la sta da mirar il segno di croce.